Ciao, mi chiamo Federica Valenti, insegno Back School e Life on Training. La Back School è una vera e propria scuola di educazione posturale ed è utile soprattutto a tutti coloro che hanno sofferto, soffrono di patologie croniche della colonna vertebrale. Il Life on Training invece è un programma dinamico molto vario, lavora proprio sulla tonificazione di tutto il corpo a livello funzionale. Vi aspetto quindi alle mie lezioni, il mio motto è Gioi di Muoversi. Grazie a tutti.